Da un anno il comune di Napoli ha la sua server farm, la centrale unica di raccolta ed elaborazione dati con cui mette a sistema la gigantesca mole di informazioni disponibili negli uffici. Alloggiata nel centro polifunzionale di Soccavo, la nuova architettura riunisce tutti gli archivi informatici comunali che fino a pochi mesi fa erano disgregati e isolati nelle diverse sedi, procurando anche un risparmio di apparecchiature e di consumi. Con la server farm sarà possibile incrociare le informazioni di tutte le banche dati preesistenti guadagnando efficienza nel governo dei servizi al cittadino, soprattutto di quelli online. Oltre alla produzione dei tradizionali documenti anagrafici, oggi il portale web del comune consente ad esempio di effettuare le procedure dello sportello unico per le attività produttive, gli atti per l'edilizia privata, il rilascio dei permessi H, le visure urbanistiche, i preventivi di Napoli virtuosa per le polizze RC auto scontate. Questo lavoro che ho visto oggi qua con i miei occhi ma che ho seguito al suo passo è una grande sfida, una grande sfida che si sta facendo bene, che si deve vincere e che soprattutto da oggi, sempre di più con la mia presenza, va comunicata. Ai dirigenti io chiedo l'assunzione di responsabilità. La server farm è in grado di governare anche la comunicazione interna. Con la digitalizzazione dei documenti si risparmiano 500.000 fogli al mese, più di 30 tonnellate di carta all'anno. E sempre con l'obiettivo del risparmio sono stati tagliati del 40% i dispositivi informatici in uso negli uffici comunali, semplicemente razionalizzando i flussi di processo. Con gli apparecchi in eccedenza si potranno allestire senza spesa nuove strutture comunali. Ancora per ridurre i costi di funzionamento aziendale è stata attivata una rete in fibra ottica di oltre 60 km che collega le 252 sedi comunali e gli oltre 5.000 punti telefonici con un dimezzamento netto della bolletta. La rete metropolitana in funzione al Comune di Napoli è oggi una delle più ampie e potenti d'Europa.